Il quattro febbraio la convocazione della conferenza regionale sul diritto allo scurdo. Il lavoro che faremo in tutta la zona con studenti e studentesse sarà di amare, definire, verificare, il lavoro che faremo in tutta la zona con studenti e 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 studenti. Il lavoro che faremo in tutta la zona con studenti e 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 ce l'abbiamo fatta, sopportando repressioni, hanno provato a non farci scendere in piazza dicendoci che ci avrebbero messo note di piazza quando in piazza non c'eravamo e non si può fare, e noi siamo andati contro, ci siamo imposti, abbiamo lottato e abbiamo vinto Grazie al corteo una delegazione di studenti e studentesse, studenti medi e studenti universitari ha ottenuto di andare a salire sulla regione a parlare con l'assessore Vottini e abbiamo ottenuto finalmente la convocazione della conferenza regionale sul diritto allo studio Questo cosa significa? Che rispondi ci saranno? Per il 24 febbraio, ora il lavoro che ci aspetta è di fare un fortissimo lavoro di inchiesta di mappare quali sono effettivamente le rivendicazioni capillari sul territorio quali sono le situazioni da inquadrare per garantire effettivamente il diritto allo studio Questa è una conferenza a cui non prendevamo parte dal 2007 è una vittoria importante, ora appunto ci aspetto un grande lavoro di mappatura e di proposta politica che deve partire da ogni singola scuola e da ogni singol ateneo e avanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana, la faccio più con te che non se ne fa, non c'è la segnazione, ma solo tanta ragazza e che se vittore e un qualche ruolo, putamola